Dottor Grassà, negli ultimi giorni si sono succeduti alcuni sismi nella zona del Trapanese soprattutto concentrati tra Castelvetrano e Petrosino avvertiti dalla popolazione magnitudo diciamo relativamente bassa tuttavia c'è preoccupazione intanto le chiedo verosimilmente e plausibilmente questi terremoti in che tipo di fenomeno si possono inquadrare dal punto di vista geologico? Siamo in presenza di una moderata sciame sismico con una moderata sequenza sismica stiamo parlando di una sequenza moderata perché abbiamo circa 10 sismi 10, 12, 20 diluiti nell'arco di una settimana e con magnitudo piuttosto bassa siamo arrivati in massimo a magnitudo 3 nella scala Richter significa che la maggior parte di questi sismi non sono stati avvertiti dalla gente c'è molta preoccupazione, molta paura perché c'è una diffusione delle notizie ma difficilmente questi terremoti possono essere realmente avvertiti sono terremoti prevalentemente strumentali cioè vengono registrati dalle stazioni e vuoi per la loro scarsa magnitudo e per la profondità non estremamente superficiale difficilmente vengono avvertiti però siamo in presenza di un, ripeto, moderato sciame sismico moderata sequenza sismica Questo conferma che si tratta di una zona, diciamo così, suscettibile? Sì, che siamo in presenza di una zona sismica lo sappiamo non aspetta, come dire, a noi scoprirlo basta guardare un pochettino indietro e ricordarci quello che è successo siamo vicino al Belice ma non solo il Belice nei primi anni 80 a Mazzara c'è stato un altro terremoto quindi molte persone forse hanno dimenticato non hanno più memoria di ciò però è chiaro che siamo in presenza di una zona a sismicità nota la domanda che mi hanno fatto in questi giorni tanto l'anticipo ci sarà un'altra scossa la mia risposta vorrebbe essere no, state tutti tranquilli ma sarei bugiardo ci saranno solo che se mi chiedete di collocarla su una scala temporale io non vi so dire quando questo accade può venire domani, può venire stanotte, può venire fra una settimana ancora più difficile perché i terremoti non sono prevedibili e attribuire altri due parametri che sono molto importanti uno, la magnitudo, cioè l'energia che viene rilasciata e poi la localizzazione basta spostarci 10 km all'epicentro e cambia completamente il mondo per cui questo tipo di fenomeni dobbiamo in qualche maniera imparare a conviverci una cosa importante che mi sento di dire da uomo di scienza si sta facendo tanto per limitare o ridurre i danni che il terremoto può provocare il terremoto non ha mai ucciso nessuno sono le conseguenze delle infrastrutture che ci creano non pochi problemi per cui la ricerca scientifica si sta muovendo soprattutto su due filoni il filone della previsione e il filone della prevenzione la previsione perché benché allo stato attuale della coscienza non è possibile prevedere un terremoto è stato visto in passato che un sisma soprattutto se sono di elevata magnitudo è preceduto, accompagnato e seguito da una serie di modificazioni quindi il terremoto ci avverte in qualche maniera aspetta a noi capire quali sono questi segnali, quali sono questi messaggi paradossalmente per poter capire cosa ci vuole dire abbiamo bisogno che si verifichino questi eventi e questi eventi che sono verificati nella zona del Belice ci stanno dando delle importanze e indicazioni aspetta a noi poi mettere in un modello che si chiama deterministico per poter vincolare quei parametri che abbiamo detto prima l'altro punto importante è la prevenzione a riguardo abbiamo detto che è una zona sismica perché? Perché nel 2004 l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha prodotto una mappa di pericolosità sismica per tutto il territorio nazionale significa che ogni centimetro quadrato del nostro territorio è mappato e ha una sua caratteristica in termini di scuotimento nel senso che è stato probabilisticamente stimato quale sarà l'energia, lo scuotimento, l'accelerazione associata ad un evento sismico che si può verificare in quella determinata zona questo è un parametro importante perché i progettisti non possono trascurare questo per realizzare le infrastrutture le case, gli edifici che poi sono quelli che ci creano quei problemi di cui abbiamo noi paura un'ultima cosa che riguarda la differenza tra i terremoti che hanno l'epicentro la terra e i terremoti che hanno l'epicentro il mare noi qui sappiamo che siamo a ridosso di un grande vulcano sottomarino ci domandiamo ogni tanto insomma a lupo a lupo però poi alla fine uno quando poi non ci crede più può succedere qualcosa ci può dire qualcosa in questo senso? Allora, purtroppo la rete osservativa dei terremoti è basata su stazioni che sono onshore significa che sono a terra a mare siamo molto deficitari molto deficitari nel senso che la ricerca scientifica ha subito drasticamente tanti tagli di conseguenza si preferisce investigare e tenere sotto controllo le zone che sono più facilmente controllabili come ovviamente tutto quello che è a terra e a mare ovviamente abbiamo una certa indeterminazione per cui questi tipi di fenomeni sono verosimilmente le analisi sono ancora in corso riconducibili ad una sismicità più legata a un fenomeno tettonico quindi legata a un'evoluzione della faglia del Belice questa zona qui piuttosto che ad un terremoto di natura vulcano-tettonica quindi con un possibile collegamento con quelle che sono le strutture vulcaniche del canale Sicilia grazie a tutti grazie a tutti